Eccoci e bentornati sul mio canale. Riprendiamo con la beta di Destiny. Dopo che ci hanno fatti i secchi, stavolta ce la faremo. Allora... Gli astro sepolcri dell'alveare, arrivano! Gli astro sepolcri, venite a me! Mamma mia, stavolta me la pagherete molto cara. Penso che questa sia veramente una missione bella tosta. Eccoli, eccoli schiavi. Stanno, eccoli, vai! Vai, vai, vai! Due! Uh, a posto. Ora facciamoci segra la... la cara signora. No, 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 sbrigate, sbrigate! Ok, ha ricaricato un tempo. No, no, questo! Mamma mia, non si può andare avanti così, eh? Dai, dai, è bella di casa. Ne faccio tutti i headshot così muori in un istante. A posto. Mamma mia, che mira fantastica quest'arma. Prendi tutto. Ranger 2.1.1. Rificchiamoci dentro. Senza fa' danni. Eccoci qua. Eccoli. Forza! Bene. Ancora schiavi per noi. Bella ricaricata. Ecco gli altri. Vai, vai, vai! Benissimo! Alla grande! Vecchio, è entrato uno schiavo. Cavaliere! Cavaliere alla testa! Al testa! Ok. Perfetto. Oh, oh! Stanno entrando troppi! Stanno entrando troppi! Leviamoci gli schiavi! Gli schiavi! Ok! Ah, quello non è entrato. Sta camperato qua. Vieni da me! Che volevi fare? Tutti furbacchioni siete, eh? Bene. Ecco gli altri. Dai! Due schiavi! Ce li siamo levati. Ecco gli altri due. Vai! Uno! Uno! Ecco gli altri ancora. Porco cane! Siamo statenti che arrivano veramente a flotte. No! Stanno entrando! Cacchio! Siamo statenti alla mia sinistra. Alla mia sinistra. Eccolo. Forza, muori! Forza! Muori! Vai, vai, vai! Preso! Preso! Bene! Ora, ora! No, 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 no! Mori, mori, mori! Bene! Oh, oh, oh! Alle spalle! Su! Ok. Chi è che spara? Chi è che spara? Ah, è questo! Oh, il cavaliere! Aspettate, eh. Voglio... Cavaliere! Beccate il coltello! E spengate pure la granata! Niente, non abbiamo fatto niente. A posto. Ora ce la dobbiamo vedere col cavaliere, ragazzi. Vieni qua. Tutti alla testa! Tre, uno e undici munizioni. Prendiamo con la pistola. Vai! Vai! Mamma mia, devastato! Forse abbiamo finito. Questo lo devi vedere. Torna dallo spettro. Aspetta che recupero le munizioni. Ok. Complesso terrestre. Andiamo. Arrivo il spettro. Che dobbiamo vedere? La parabola è controllata da Rasputin. L'ultima mente bellica. Non mi farà entrare. Si sta collegando alle strutture difensive di tutto il sistema, però. Potrebbe esserci qualcosa là fuori. Qualcosa in grado di aiutarci a sopravvivere all'oscurità. Completata anche questa missione. La missione 5 della modalità storia di Destiny. E se non sbaglio dovrebbero essere completate le missioni. Questa dovrebbe essere l'ultima. Perché mi sembrarono previste i 5 missioni... 5 missioni della modalità storia. Ora andiamo a vedere se si è sbloccato qualche altra cosa. Ma presumo che sia così se non ricordo male. Ricompensa esclusiva per la beta. Messaggio del giorno. Aiutaci a testare la beta su larga scala. Otterrai una ricompensa quando uscirà la versione completa di Destiny. Per ottenere la tua ricompensa gioca la beta di Destiny. Sabato 26 luglio alle 14. Fuso orario del pacifio con affetto. Bungie. Ok. Quindi mi sa che oggi giocherò alle 2. E sì, missioni sono terminate come immaginavo. Allora facciamo una cosa. Possiamo andare alla torre per andarci a prendere le ricompense. Vediamo un po' che tipo di ricompense. Dovremmo incontrare anche tantissimi altri guardiani. Perché la torre è tipo una specie di social network del gioco. Cioè là ti incontri con tutti gli altri giocatori di tutto il mondo che giocano ovviamente a Destiny. Quindi vanno là per sistemare le armi, per sistemare le armature e quant'altro. Più che altro pure le abilità da non sottovalutare. Siamo, se non ho visto male, a livello 5 giusto di esperienza. E sempre se non ricordo male mi sembra che il massimo livello raggiungibile nella beta è il livello 8. Se non sbaglio. Però poi le abilità si possono continuare a fare nonostante non aumenti poi più il livello di esperienza. Eccoci qua, invito del crogiolo. Ok, da che andiamo per prima? Andiamo prima da questo qua sotto. Come siamo consoni noi a vedere. Dobbiamo riscattare un bel po' di ricompensucce, eh? Eccolo qua. Recessore del crogiolo. Che mi dai? Che c'è sta? Entra... Oh. Entra il fila guardiana fino a creazione di una serie di combattimenti autorizzati fra loro. Ok. Non ci sono oggetti disponibili. E questo è fatto. Parla con l'avanguardia per ricevere una ricompensa. Ok, ritorniamo qua dal caro signore. In questa stanzetta, caro amico. Cade, sei? Che ci dai? Allora. Interfaccia, difesa, qualcuno ha strappato la pole. Vai dire questa che era più alta. 34. Bene. Parla con l'armaiolo per ricevere una ricompensa. Sto cacchio, ma quante ce n'abbiamo? Un botto. Comunque quando andiamo qua alla torre lo spettro rimane parcheggiato da qualche parte. Mentre tipo quando andiamo a favore le missioni ci segue, sta con noi e quant'altro. Allora, andiamo dall'armaiolo e poi ci andiamo a fare quell'altro, eh. Ah, eccolo qua. Cryptarca. Scambia manufatti. Ah, prendiamo sti lumen. Benne 200. Sendardi del casato. Ce li prendiamo, grazie. Poi ci dà guanti o casco, ma io direi casco. Guanti lunghi o casco, ancora casco. E guanti lunghi, perché non c'era rimasto nient'altro. Ok, andiamo dall'armaiolo adesso. L'amico armaiolo dice un po' che c'è dato, è bello. Allora, Darius, giullare, diacono. Ci frega sempre sto discorso della cadenza. Cadenza alta e di cadenza bassa. Però quello con la cadenza più bassa, questo mi sembra che ha le caratteristiche migliori. A posto. Penso a finite. Finite le ricompense. Ce le siamo sparate tutte quante. Bene così. Scolaretta. Volevo andare a vedere un po' se sotto dove eravamo andati a potenziare la nostra navicella si può fare qualcosa. Così andiamo a vedere che cosa c'è. Intanto c'è gente che balla a tutto spiano, perché se non ricordo male si può anche ballare nel gioco con il proprio personaggio. Angar della torre. Vediamo un po' se c'è qualcosa per la... Non vedo niente con cui parlare. Ok, torniamo in orbita. E andiamo a vedere che missioni possiamo fare come multiplayer. Perché se non sbaglio si può fare un 6 contro 6, tipo una specie di modalità dominio-conquista. Cioè bisogna conquistare delle specie di punti e difenderli. Quindi come è un genere dominio-conquista perché ovviamente è ferrato nelle modalità multiplayer degli sparatutto. Facciamo una cosa. Allora andiamo a vedere in imposta destinazione questo famoso croggiuolo. Croggiuolo meglio. Affine a tua abilità di conquista la gloria in battaglia contro altri guardiani. È questo qui. Facciamo una bella cosa allora ragazzi. Nel prossimo video lo andiamo a fare e vediamo che missioni ci sono. Tutto questo nel prossimo video di Destiny.